Quest'anno si caratterizza, oltre che per le cose che dirà dal punto di vista strettamente cinematografico del direttore artistico Stil della Casa, si caratterizza per essere un'edizione legata all'Expo, legata all'Expo in tutte le sue derivazioni e articolazioni, qui dobbiamo dare atto peraltro al Sindaco e al Consiglio Comunale, alla Giunta, tutti quanti di essersi impegnati anche per avere la partnership insieme all'Expo per questa manifestazione e che noi declineremo su alcuni aspetti particolari, poiché poi il tema è quello di nutrire il pianeta, come sappiamo di Expo abbiamo cercato di individuare qualcosa di interessante e abbiamo credo provato delle chicche di una certa consistenza dal punto di vista scientifico e dal punto di vista proprio della salute, della capacità di nutrire bene il pianeta e le sue abitanti.